Alla luce di quanto già avvenuto da Tessaco la Honeywell, la regione, per bocca del presidente vicario Giovanni Lolli, invita ai vertici della BOL di San Martino sulla Maruccina a cedere gratis allo stabilimento. Ci sarebbero già investitori pronti a rilevare l'attività. La BOL, società americana specializzata nella realizzazione di lattine e linguette per bibite, ha recentemente comunicato che intende smantellare il presidio di San Martino sulla Maruccina. Con licenziamento che cadrebbe proprio nel giorno di Natale. Domenico Adorante e Giuseppe Graziosi della Fium CGL al microfono di Luca Pompei. L'azienda è tuttora latitante. Abbiamo fatto l'incontro al Mise più di 15 giorni fa, dove l'azienda aveva come incarico di dire un sì o un no allo stesso ministero e prendere delle decisioni. A tutt'oggi c'è una data presunta per il 19 di un nuovo incontro, ma non conosciamo le risposte. Nel frattempo sappiamo che sia la regione, il comune e tutti gli altri enti si sono mossi per attivare tutti i percorsi di reindustrializzazione. Presso il Mise si sono fatti avanti dei potenziali investitori che vorrebbero subentrare sul sito e riassorbire la totalità del personale. A questo punto l'azienda non credo che abbia più tanti albi o scusante per non approdare un percorso di cassa integrazione e di reindustrializzazione, perché a quanto dichiarato fino ad oggi si è sempre resa disponibile a un percorso di rimpiego nel mondo BOL o di ingentivo economico. Ma fino ad adesso non è stato mai né quantificato l'uno né che tipo di rimpiego. E ci hanno anche accusato che ci avevano dato una settimana di tempo per farci sapere chi voleva andare nel mondo BOL. Ieri è proprio successo questo, che un nostro collega ha richiesto di voler andare nel mondo BOL. E ha chiamato il direttore dello stesso stabilimento, il quale lui si è negato in tutti i modi. Ha fatto un passaggio superiore e ha chiamato lo stabilimento di Nogara. E ieri sera in mia presenza l'ufficio personale di Nogara gli ha chiesto il curriculum. Cioè il curriculum di cosa? Questo ragazzo è assunto da data tot 1900 e oltre, da 25-30 anni che sta là, dipendente tuttora della tua azienda, chiede il curriculum di cosa? Ora ci rimproverano il fatto che hanno dovuto chiudere la produzione perché noi facevamo show pressing. Noi eravamo disponibili anche a lavorare fino all'ultimo giorno, ma non c'è stata mai apertura.